salve a tutte e tutti qui sabato vigilia di pasqua ma avete chiesto un altro video e io lo faccio sono andato a fare la spesa e adesso ritorno a casa perché mi chiedete sempre ma perché non ti fai un video da fuori casa ma perché non ti fai un video fuori casa e io vabbè quando esco adesso farò dei video quando posso perché non è che mi posso filmare camminando con il cellulare in mano che me lo soffiano me lo fregano e poi mi sto filmando con il mio nokia asha 302 che ciò da dicembre 2013 quando glielo regalai a mia madre per il natale perché non conviene portare fuori neanche beh il motorola moto e siete power c'è una memoria piccolissima e fa dei video pesanti quindi si riempie subito la memoria poi ce l'ho con altre cose e non vado a uscire per la strada con il motorola age 30 fusion che mia madre mi ha comprato in marzo 2023 perché costa molto di più sarebbe veramente sciocco farsi soffiare un moto motorola age 30 fusion capito perché poi viene il pro e poi viene l'ultra quindi sta nella fascia media degli gamma alta non è l'ultra dei gamma alta ma non è neanche il più basso dei gamma alta il legge 30 o leggi 30 fusion quindi niente faccio questo video per augurarvi buona pasqua a tutti anzi mi metto di nuovo il mio capellino così vi saluta il capitan di esercito questa volta non di marina e bene allora adesso sono rientrato già da molto questa mattina sono uscito a fare la spesa ho comprato la colomba l'uovo di pasqua però volevo chiudere in bellezza il video iniziato oggi e quindi probabilmente quando voi lo vediate perché non lo mando al premier sarà già sabato notte vi auguro quindi un buon sabato di vigilia sabato sera o notte a seconda di quando voi lo guardiate oppure direttamente vi auguro ecco vi auguro appunto una buona domenica di pasqua perché probabilmente voi il video lo guardate domani non lo mando in premier perché ormai se no quando esce però auguri buona pasqua 2024 grazie per seguirmi numerosi vi saluto al vostro capitana questa volta di stato maggiore dell'esercito ciao a riveloci e grazie di seguirmi e mi raccomando condividete i miei video commentate gli date gli like tutte queste cose qua e poi se potete donare dei super grazie o abbonarvi mi farete un grande piacere ciao dal vostro sante ciao